Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi volevo preparare questa ricetta del sapone di Aleppo, meglio simile a Aleppo, che è la mia ricetta personale. Ne faccio più di una, più che altro perché possono cambiare le quantità, le proporzioni di olio e mi spiego meglio. Io produco, mi faccio l'oleolito di alloro, poi segnerò nell'info box anche come si fa l'oleolito di alloro, se volete vedere il video. E se, come in questo caso, mi manca la quantità giusta perché io farò mezzo chilo di olio, vado a fare questa preparazione che è molto molto semplice. Prendo una bella manciata di alloro, può essere secco, fresco, io ce l'ho fresco, a dire il vero lo preferisco. E non fa niente se magari si può trasferire un pochino di acqua all'interno dell'olio perché appunto è una pianta fresca. La cosa che volevo dire dunque è che su 500 grammi di olio di oliva, che è fondamentale che sia olio di oliva, posso mettere una percentuale variabile di oleolito. In base a quanto in questo caso me ne è rimasto, ecco, io ne ho almeno 300 grammi, 280-300 grammi, cosa farò? Metterò in questa manciata di foglie di alloro, metterò 200 grammi di olio di oliva e vado a frullare. Quindi nel mio sapone di 500 grammi di olio di oliva ci sono 200 grammi di olio di oliva che ho frullato con le foglie fresche di alloro. Ci sarà una parte di olio di oliva, almeno altri 200 grammi di olio di oliva e la parte rimanente aggiungerò l'olio di oliva. Quindi non è un vero e proprio sapone di Aleppo con le percentuali dell'olio delle bacche dell'alloro. Vi spiegherò poi alla fine anche quali sono i miei limiti per quanto riguarda questo tipo di sapone, quali sono le mie perplessità più che i miei limiti. Intanto vi faccio vedere il procedimento. Quindi come vedete ho semplicemente frullato questa bella manciata di foglie di alloro e se resta qualche pezzettino di foglia io lo lascio nel sapone. Comunque è anche carino da vedersi. Se avete invece la voglia, la volontà di fare l'oleolito a caldo, quindi usare solo oleolito di alloro, ecco potete semplicemente mettere a fare l'oleolito sulla fiamma a bagnomaria con la quantità di olio che vi necessita e le foglie di alloro. Io preferisco questo sistema. Il mio oleolito è a freddo. Mi piace frullare la foglia fresca e ottenere quindi quell'olio aromatico che tra l'altro è anche ottimo per condire ad esempio la carne arrostita. Ecco. E questo invece è l'oleolito che ho prodotto qualche mese fa. Considerando la raccolta dell'alloro quando ho fatto l'oleolito non c'erano ancora le bacche, quelle nere, quindi non erano ancora pronte. C'erano delle piccole bacche, ne ho aggiunto a qualcuna, ma io con le bacche di alloro non vado molto d'accordo. Quindi questa è una questione mia personale che non voglio assolutamente trasmettervi. Però poi alla fine, come dicevo prima del video, spiegherò le mie motivazioni. Ora prepariamoci invece la soluzione caustica. Come avete visto, c'ho la bottiglia di aceto perché se mai dovesse schizzarmi della soda caustica basta versarci l'aceto e assolutamente si blocca il brusciore e il dolore. Ho messo un maglione a maniche lunghe. Questo che vi sto facendo vedere non è altro che un decotto di alloro che ho fatto e ho congelato perché farò la soluzione caustica con il ghiaccio. Tutto il processo lo faccio a freddo quindi voglio che la soluzione caustica si raffreddi il prima possibile e userò il ghiaccio. Allora vado a pesare questi due oli quindi l'olio che ho frullato con le foglie insieme a voi e l'oliolito che avevo già preparato. La parte restante andrò ad aggiungere quindi altro olio di oliva. Come vuole la tradizione il vero sapone di Aleppo non contiene nessun altro additivo non contiene profumi e nient'altro per cui userò solo e soltanto questi due elementi. È talmente vecchio il sapone di Aleppo e ancora ai giorni d'oggi è molto richiesto che sicuramente ha dei pregi altrimenti non sarebbe così venduto così richiesto pensando che un pezzo di sapone di Aleppo può costare anche 10 euro. Quindi lo possiamo fare in casa con la differenza che siamo sicuri degli ingredienti che andiamo ad inserire. Allora adesso sto pesando l'acqua in questo caso il ghiaccio che in realtà è il mio decotto di alloro 150 grammi se dovesse mancare naturalmente un po' di liquido metterò un pochino di acqua normale se fosse in più toglierei magari un cubetto di ghiaccio potete anche mettere semplicemente il decotto a raffreddare in frigo ecco l'importante che la soluzione caustica sia fredda ecco perché la temperatura sia dell'olio che della soluzione caustica deve essere simile. Io non uso il termometro se no sarebbe molto più semplice. Adesso vado a pesare invece le scaglie di soda soda caustica al 99 65 grammi naturalmente è una formula una ricetta che è destinata a un sapone per il corpo per la pelle quindi una parte degli oli resterà insaponificata perché servirà appunto per rimanere sulla pelle per essere più emolliente se fosse destinato a un detersivo a un sapone da bucato chiaramente userei una proporzione diversa di soda caustica. Come vedete vi ho fatto vedere la distanza che io ho quando preparo la soluzione caustica è la distanza di un braccio quindi non respiro assolutamente la soluzione caustica naturalmente indosso anche la mascherina e la tengo lontana gli do una mescolata adesso piano piano si scioglierà e intanto vi dico ancora un'altra cosa per quanto riguarda il sapone d'Aleppo ho sempre fatto questo tipo di preparazione come vi dicevo prima possono variare le proporzioni magari posso avere più oleolito e magari ho l'alloro secco ecco queste sono le mie proporzioni l'importante è che sono in questo caso 500 grammi di olio in totale fra oleolito olio frullato con foglie di alloro o olio di oliva semplice la distanza di un braccio e vado a versare la mia soluzione caustica come vedete il colore è molto scuro e giro sempre prima un pochino a mano e si può anche continuare a girare così a mano perché comunque resta abbastanza liquido non diventerà una pasta diciamo come siamo abituati a vedere magari la traccia più dura ma sarà qualcosa di più liquido adesso userò il mini peamer vi faccio vedere ecco diventa una crema però è abbastanza liquida come vedete si schiarisce anche un pochino come dicevo come dicevo prima comprare un sapone di Aleppo bisogna farsi un mutuo perché comunque costa veramente tanto e non siamo mai sicuri se ci sono ancora dentro dei conservanti degli additivi se ci sono fragranze di sintesi insomma deve essere un sapone che è indicato per pelli sensibili e quindi deve essere un sapone come il classico sapone di Marsiglia privo di tutte queste sostanze di questi additivi appunto è sicuramente uno dei saponi più antichi se non il più antico è l'antenato principe del sapone di Marsiglia e anche del sapone di Castiglia insomma come vedete anche con 500 grammi si ottengono parecchie saponette io di solito preferisco fare sempre 500 grammi di olio quando produco le saponette mi piace avere la scelta di provare più saponette farle anche provare alcune volte li divido anche in due pezzi così faccio provare alle amiche le varie saponette la differenza c'è innanzitutto c'è l'olio d'oliva l'olio d'oliva è un tocca sana per la pelle quindi anche il semplice sapone di Marsiglia è un sapone per me di grandissima qualità non esiste naturalmente una saponetta un sapone neutro possono avere un pH di 8 di 9 come giusto che sia non non ho mai sentito e non credo che esistano saponi neutri tranne che non vengono prodotti con delle sostanze chimiche perché altrimenti nella saponificazione proprio il processo chimico non lo permette ed ecco qui le saponette sono 11 saponette allora se non erro sono di circa quelle gialle sono circa 60 grammi e le altre sono di 80 grammi adesso vado a riciclare una busta di plastica la metto sopra poi metterò la coperta fra circa 24 ore anche se io aspetto sempre meno perché vado lì a vedere se è pronto perché è sempre un piacere sformare il proprio sapone comunque diciamo circa 24 ore dipende molto dalla temperatura andrò a sformare il sapone una bella coperta calda in pile ed ecco che da due due piante umili come può essere appunto l'alloro e l'olivo si ottiene un sapone antibatterico e tra l'altro si usava e si usa ancora per fare anche degli shampoo se ad esempio si ha la forfora i brusciori chiaramente dico sempre dopo gli shampoo fatti con saponi duri saponi di marsiglia o sapone d'aleppo insomma saponi duri bisogna comunque fare un risciacquo acido e adesso vi dico qual è il mio problema con le bacche di alloro il discorso è che quando si compra una saponetta di 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 aleppo non è mai indicato ad esempio la percentuale di quell'olio se è olio derivante dal frutto cioè dalla bacca dalla foglia leggiamo semplicemente che è olio di laurus nobilis che sarebbe appunto l'alloro però bisogna anche dire che le persone non solo in seria non solo ad aleppo diciamo tutte le persone gli operai che vanno a produrre quest'olio fanno bollire queste bacche per tante ore cinque sei ore e sono sono altamente irritanti e irritante ecco tant'è vero che in Italia è vietata la vendita di quest'olio l'olio della bacca l'olio della bacca di alloro lo possiamo fare anche noi ma io come vi dicevo è una cosa che preferisco non fare naturalmente mi sto mettendo un pochino di crema direttamente dalla pianta ecco questo è un sistema che usavano le raccoglitrici che usano probabilmente ancora adesso questo è proprio il periodo in cui si raccolgono le olive di spalmarsi l'olio che esce dall'oliva naturalmente c'è anche una quantità di acqua sulle mani perché normalmente poiché il periodo è questo di solito fa abbastanza freddo e quindi è una forma di protezione anche per per le mani e niente quindi adesso ci vediamo fra 24 ore eccoci qua sono passate non 24 ore ne sono passate forse una ventina ma io sono andata a controllare e ho deciso di accendere la telecamera vado a sformare il mio sapone mentre sformo il sapone io continuo il discorso quindi l'olio di semi di alloro quello contenuto però nelle bacche è proibito non si può usare per i cosmetici anche il sapone per il viso è un cosmetico quindi io preferisco non usarlo perché so che è molto irritante quindi naturalmente è solamente il mio parere ecco perché l'ho definito simile a leppo perché non ho usato l'olio delle bacche praticamente questo olio ribollito che tra l'altro ha portato tantissime dermatiti allergiche da contatto agli operai che appunto lo usavano lo usavano per fare questo sapone quindi questa cosa non mi piace allora possiamo comprare quindi importare direttamente il sapone se proprio vogliamo prendere un sapone di aleppo naturalmente senza sapere cosa c'è dentro perché l'inci è abbastanza generico insomma vi parla appunto dell'olio di alloro dell'olio d'oliva o possiamo farcelo a casa nelle proporzioni che vogliamo di oliolito di alloro di olio di oliva con foglie di alloro frullate e con una quantità di olio di oliva per la parte mancante io spero che questo video vi sia piaciuto e vi aspetto al prossimo ciao